Grazie a tutti La idea è venuta dal fatto che cercavamo un modo non convenzionale di lanciare la nostra linea di costumi da bagno per cui avendo a disposizione un ristorante centrale del genere abbiamo pensato di sfruttare la cosa e renderla virale da tanta passione per la moda, da una solida amicizia e da voglia di diventare imprenditrice molto presti Non ti racconti neanche Grazie 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 Grazie